cioè il tuo cuore non era posseduto dalla carità e allora è stato facile che la tua lingua ti ha tradito e il cuore è l'origine del peccato avevo mai capito con profondità questo adesso tutte le volte che faccio una mancanza penso subito dove è il cuore in questa mancanza e mi accorgo che è sempre così la mancanza ha una radice profonda profonda che parte dal cuore e io devo curarlo lì il peccato perché Gesù l'ha insegnato che il peccato parte dal cuore e quando noi offendiamo lui in un atto quello è già la conseguenza ma io devo curarlo a monte il peccato nel suo cuore, nella sua origine allora Gesù che dice è dal cuore che avvengono gli adulteri e in Matteo 7 il cuore è la sorgente d'ogni male Matteo 6 beati puri di cuore quelli che sorvegliano proprio l'origine del male e del bene dentro di sé per questo è tanto importante la preghiera del cuore vi medica nella profondità dell'essere di dove parte il bene e il male ecco la necessità della preghiera del cuore il peccato per Gesù non è una fatalità io lo covo il peccato lo covo il peccato e lo covo dentro il cuore e poi esplode e tutti i meravigli che è esploso ma è il cuore che devi andare a vedere cosa dovevi fare dovevi riempirti della mentalità di Cristo dovevi essere unito a Cristo dovevi interrogarti ai piedi di Cristo dovevi stare crescere nell'amicizia di Cristo il tuo cuore diventava un altro e poi non succedeva il peccato e questo è tanto confortante perché ci insegna la strada diritta per curare in noi il male sesto Gesù insegna che c'è un rimedio al peccato il pentimento e il pentimento comincia dalla schiettezza dalla denuncia guardate Zarcheo la metà dei miei beni lo do ai poveri se ho frodato do quattro volte se ho frodato quindi lui si ritiene un ladro denuncia a Gesù di essere un ladro e Gesù che dice oggi la salvezza è entrata in questa casa il pentimento ha risolto il buon ladrone con una parola l'adultera con un senso di di pentimento mette tutto a posto difatti Gesù dice va neppure io ti condano ma non peccare più cioè il tuo pentimento che hai adesso deve durare non peccare più non esiste peccato di cui non potete pentirvi e quello che è consolante è questo non esiste peccato che voi non potete riparare finché siamo in vita possiamo riparare qualunque peccato quindi possiamo essere perdonati di qualunque peccato perché essere schietti dipende da me accettare che sono nel disordine dipende da me e il pentimento cioè il voler riparare quello che è stato dipende anche da me e allora e allora ecco Gesù ci insegna la strada è facile il pentimento settimo Gesù mette una condizione indispensabile al perdono il perdono del fratello perdonate e vi sarà perdonato Luca 6 37 Matteo 6 12 perdona come noi perdoniamo Matteo 18 21 quante volte dovrò perdonare al mio fratello che pecca contro di me fino a sette volte non ti dico fino a sette ma fino a settanta volte sette il Signore vuole che siamo generosi nel perdono dei fratelli io vi avverto subito di una cosa un elemento importantissimo per il sacramento della riconciliazione sarà questo che facciate la lista nera la lista nera delle persone a cui dovete perdonare e che cominciate a portare la lista nera davanti all'Eucaristia e che chiediate al Signore la forza di perdonare poi fate passare uno per uno le persone e perdonate di cuore e chiedete le benedizioni di Dio su quelle persone fate una tra le preparazioni al sacramento per favore fate questa preparazione vedrete come come vi prepara nell'intimo il perdonare agli altri per essere voi perdonati adesso mi lasciate ancora fare un flash sopra il comportamento di Gesù con i peccatori ah è una cosa che fa piangere che fa piangere di gioia Gesù vede nel peccatore non un peccatore ma un figlio e quando descrive il dramma del peccatore parla di un figlio che scappa da casa e che spezza il cuore a suo padre perché Gesù non chiama il peccatore peccatore ma per Gesù il peccatore è un figlio è un figlio un po' insensato ma è un figlio secondo Gesù spiega che Dio non aspetta il peccatore ma gli va dietro per recuperarlo voi sapete che una delle preparazioni più efficaci al sacramento dovrà essere prendere in mano la catechesi di Gesù sul sacramento che è il capitolo 15 di Luca il capitolo 15 di Luca è la grande catechesi di Cristo sul sacramento per favore non andate al sacramento se non avete fatto bene il capitolo 15 di Luca dove lui presenta bene il sacramento in tutti i risvolti e voi sapete che il centro è la parabola del figlio il prodigo ma forse avete mai riflettuto che è un trittico il capitolo 15 cioè c'è un pannello centrale il figlio il prodigo poi due pannelli laterali la pecorella smarrita la dramma smarrita e quello che non c'è dentro il pannello centrale c'è dentro i pannelli laterali e quindi la catechesi bisogna leggerla nel modo completo ora nella catechesi del pannello centrale il figlio il prodigo che torna c'è il papà là sull'uscio che aspetta che aspetta ma nel pannello laterale c'è che il signore non è lì che aspetta ma che corre dietro per vagli e monti in cerca della pecorella finché l'ha ritrovata cioè Dio ci dà da fare dietro il peccatore da perdere la cognizione finché l'ha ritrovata questo sono insegnamento di Cristo non sono teologi che presentano dei sogni sono cose dette da Gesù cose da assimilare bene prima del sacramento anzi Gesù insegna e qui è una cosa che fa scoppiare il cuore Gesù insegna che il perdono di Dio è la più grande gioia di Dio prendete il capitolo 15 voi vi accorgete che almeno cinque volte Gesù parla di gioia bisognava far festa lo accolse con gioia fate festa con me cinque volte il tema gioia e noi preti vergognosi abbiamo presentato tante volte il sacramento del perdono come sacramento di paura mentre Gesù l'ha presentato come sacramento della gioia bisogna far festa si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che per 99 che non si pentono festa festa di Dio festa di Dio e il sacramento bisogna celebrarlo nella festa e il nostro liturgista se non ce lo celebra poi nella festa guai a lui gli tiro il microfono grande festa grande festa grande festa faremo noi quando facciamo i deserti voi vi meravigliate il deserto è di 230 noi i nostri deserti dei giovani sono di 700 giovani tutti in silenzio perfetto e tre ore di adorazione minimo ma quasi tutti fanno 5 ore 6 ore e giorno e notte e l'ultima notte tutta preghiera e quando arriva la festa del sacramento è una cosa che fa piangere noi preti confessiamo fino a 9 ore e non vi ho detto che lo stile con cui il rituale che seguiamo noi è un rituale che fa drizzare i capelli sapete come confessiamo noi confessiamo incinocchiati vicino al giovane 9 ore in ginocchio lì il prete che piange con il giovane 9 ore e non sentiamo la stanchezza tanto i giovani sono preparati tanto vengono a ricevere il sacramento come una grande festa e cominciano le grandi conversioni ecco bisogna imparare il sacramento come sacramento della giovane un'altra osservazione Gesù tratta sempre con finezza il peccatore non lo attacca mai il peccato sì il peccatore mai attacca solo i giusti che non si sentono peccatori quelli li attacca ma il peccatore non lo attacca mai un'ultima osservazione no ancora ho partito la nozione dei numeri dove siamo quarto Gesù tutta tenerezza col peccatore e di una severità impressionante col peccato mostra esigenze paradossali sembra che chieda l'impossibile fu detto agli antichi non uccidere ma io vi dico chiunque sia d'ira col proprio fratello sarà sottoposto a giudizio fu detto agli antichi non commettere adulterio ma chi guarda una donna con occhio cattivo ha già commesso adulterio Gesù è tremendo contro il peccato tenerezza assoluta col peccatore ma severità impressionante e questo per la stima che ha dell'uomo tu devi accanirti contro il peccato da sradicarlo e non accarezzarlo Gesù quinto Gesù o sesto Gesù insegna senza mezzi termini che la strada della conversione è difficile quanto è stretta e la porta è angusta la via che conduce alla vita e quanti sono coloro che e quanti pochi sono coloro che la trovano Gesù insegna Gesù è la verità non ci illude mai non ci conta mai storie siamo noi che contiamo storie lui non conta mai storie insegna senza mezzi termini che la strada della conversione è difficile è una strada stretta è una via difficile sesto Gesù svela però il segreto per farcela venite a me voi che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite umile di cuore troverete ristoro per le anime vostre il mio gioco è dolce il mio carico è leggero siccome lui è la verità dice che il suo è un gioco che il suo è un carico ma un gioco dolce un carico leggero e il segreto per farcela nella conversione qual è venite a me e io vi darò la forza venite a me e io vi darò la forza allora lasciatemi solo tirare qualche conclusione immediata ed è questo la prima preparazione al sacramento schiettezza sanguinante sentirsi peccatori perché se vi sentite se peccate di angelismo non confessatevi voi profanate il sacramento schiettezza sanguinante sentirsi peccatori secondo andare a lui andare venite a me venite a me ecco io vorrei subito suggerire a voi preti il primo elemento del vostro pentimento sarà il vostro programma di vita di preghiera la vostra regola di preghiera voi dovete avere la buona volontà di stendervi la regola di preghiera perché è lì in quel venite a me che ci sarà la vostra costanza la vostra forza se la vostra vita di preghiera sarà solida il vostro pentimento andrà a effetto voi arriverete proprio al pentimento vero dei peccati e alla costanza nello sradicamento del peccato terzo secondo me è indispensabile prendere alcune decisioni concrete concrete ne parlerò domani bene di questo perché il pentimento sta nelle decisioni concrete e se non prendete decisioni concrete il vostro pentimento è aereo e voi non potete confessarvi non potete profanare il sacramento decisioni concrete e aggiungerò concrete proporzionate intelligenti e poi aggiungerò un'altra cosa ma tornerò ancora lì sopra aggiungerò ancora questa e riparazione 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 nella chiesa antica la riparazione era un dogma e noi l'abbiamo sfasciata questa tradizione non parliamo più di riparazione nella chiesa antica chi non riparava non era assolto e questa tradizione è caduta e noi la dobbiamo risuscitare perché nella riforma liturgica del sacramento la chiesa vuole che sia risuscitato allora dobbiamo obbedire alla chiesa riparazione e io devo interrogarmi nel silenzio avremo un giorno intero solo per il sacramento aboliamo anche l'adorazione eucaristica perché diate tutto il tempo al sacramento avrete la cappella del crocifisso avrete tutta la via crucis vedeste che spettacolo è la via crucis di colle valenza io proporrò di fare il sacramento lungo la via crucis a ogni stazione un prete che confessa e che voi andiate inginocchiarvi davanti al Signore e un giorno intero fare questo ma poi vedrete che effetti darà a voi il sacramento celebrato così perché quasi sempre è il punto su cui slettiamo cioè vado a chiedere perdono ma hai riparato hai riparato e guarda che lì è la garanzia del pentimento perché se ripari di sicuro sei pentito se non ripari è difficile potrebbe anche essere che non sei affatto pentito o sei pentito così a sentimenti vaghi ma la riparazione ti dà la garanzia tu sei pentito allora la riparazione e poi sarà la festa di Dio si fa in cielo più festa per un peccatore pentito che per 99 e se saranno 230 i peccatori pentiti vi immaginate che festa vi immaginate che il signore ha già mandato gli angeli a cogliere i fiori sì ecco da questo momento ho cominciato il sacramento perché nel vostro cuore di sicuro c'è già c'è già questa decisione voglio fare una confessione che sia un capolavoro e allora è già cominciato il sacramento adesso c'è solo da continuare e la festa in paradiso è già cominciata il padre ha già dato ordine agli angeli avanti nei prati di Colle Valenza a cogliere tutti i fiori perché faremo la festa di 230 peccatori che sono pentiti a cogliere a cogliere